Allora ragazzi, abbiamo un pipistrello, ma che bellino che è, sono quelli lì con la testa di volpe, sono quei pipistrelli che vanno in giro di giorno, mangiano i frutti, un pipistrello che mangia i frutti, ve l'ha fatto vedere la mia vicina, aspetta che ve lo zoom, vediamo se riesco a farvelo vedere, è lì, è nero, non so se lo vedete, è lì, è piccolino, c'ha la testina che sembra un topolino, gli occhi grandi grandi, che carino che, mi sarebbe prenderlo, cazzo, lo prendi, lo metti nella gabbia, gli dai la frutta, lo fa diventare bello grosso, questi pipistrelli arrivano a essere bei grossi, apertura all'area e anche quasi mezzo metro, ci sono belli grossi anche, Nino, mi sta guardando, che carino che sei, mi piacerebbe tanto prenderti, eh va bene, un video e anche una foto, che sto tizio è uscito di casa, praticamente ce l'aveva appeso in fianco alla tettoia di casa, ma un coso grosso, grosso quanto un gatto, non fanno niente, sono innocui, non mordono, non ti fanno niente, pensa a te, incredibile, è qua, è lì, appeso all'ombra, penso stia lì, tutto il giorno, dorme lì, e poi verso sera, esce fuori, va, ma questo qua è piccolino, ma ce ne sono di veramente, veramente grandi, di veramente grandi, io non ho ancora visti quelli grandi, questo è il primo che vedo, il primo piccolino che vedo.